Eccoci. Buonasera, benvenuti sul canale dei libri e ai nostri dialoghi di Orbisaglia. Ci eravamo lasciati con Natale Vacalebre che intervistava Antonio Castronuovo, proprio subito prima delle feste natalizie, e riprendiamo l'anno nuovo con un amico, Lucio Passerini, per la cui traduzione è appena uscito un volume importante, adesso vediamo se lo pronuncio giusto, perché ci sono interrogati a lungo sulla pronuncia di questo nome, che è un nome tedesco, però di un autore boemo, Jan C. Holt, La forma del libro, in realtà la prima edizione di quest'opera, la traduzione, era già uscita nel 2003, ma ora la traduzione è stata interamente rivista, c'è una bella introduzione appunto di Lucio, e vogliamo parlare di questo libro, che è un libro molto, ma molto bello, importante per tante ragioni. Per prima cosa lascio però la parola a Lucio, cioè come mai venne l'idea di tradurre quest'opera? Beh, questo libro, come hai detto, è uscito in prima edizione in italiano nel 2003, quindi quasi vent'anni fa, presso un editore, Silvestre Bonnarda, che aveva proprio come missione editoriale specifica quella di pubblicare libri dedicate ai libri. Questo è, per questo ambito, una pietra miliare senza dubbio, per quel che riguarda la tipografia del Novecento. È importante l'autore, che è stato proprio uno dei protagonisti della tipografia del Novecento, proprio in quel decennio particolare che va dal 1925 al 35, dove sono successe tutte le cose che poi hanno dato un'impronta al campo, al campo della tipografia. E in questo volume lui ha, in pratica, raccolto una serie di piccoli saggi, piccoli articoli, pubblicati in diverse riviste del settore soprattutto. Senti, però, appunto, lui ha immaginato questo libro, anche se poi esce postum, se ho ben capito. Ma questa serie di contributi, infatti, ogni tanto possono suonare un po' apodittici, cioè si fa così, come se potesse esistere il libro, mentre invece esistono i libri. Come si coniuga queste direttive con il fatto che esiste una pluralità, poi? Beh, effettivamente il tono di Shehold è, potremmo dire, proprio prescrittivo. Lui dice cosa bisogna fare, però lo fa accompagnando sempre il ragionamento con esempi o con riferimenti estremamente ragionevoli. Per cui alla fine risulta facile seguire queste indicazioni, o meglio, è difficile dire che non ha ragione, che sta dicendo delle stupidaggini. Una delle cose interessanti è che il suo discorso è sempre generale, dato ai principi fondamentali del tema, dell'argomento, e non parla mai di sé, in prima persona, delle cose che ha fatto del suo modo di dire. Piuttosto cerca di convincere del fatto che chi fa un libro si inserisce in una tradizione talmente solida, talmente strutturata, che non può inventarsi a casaccio delle cose. Deve esserci sempre una logica in quello che si fa e in particolare nel disegno del libro quello che conta è il fatto che una volta che si sono fatte le prime scelte, come la scelta di un carattere, poi tutto ciò che viene dopo è legato, è una specie di concatenazione ragionevole, razionale, che porta al risultato migliore possibile. Senti, tu adesso hai usato una... Allora, se mi avessero chiesto, prima di leggere il libro, se mi avessero chiesto di dire, ma di che cosa parla? Perché un po' lo conoscevo, ma l'ho letto in tal intera, avrei detto, beh, parla della grafica del libro. Invece assolutamente l'autore, se mi avessero sentito, mi avrebbe tirato un colpo di pistola, perché non parla della... Anzi, lui dice la grafica è qualche riguardo alla copertina, addirittura per lui la copertina è un elemento estraneo, soprattutto la sovracoperta, diciamola meglio. È un elemento totalmente estraneo al libro. E invece il suo mestiere, tu adesso l'hai definito, il disegno del libro. Potremmo anche chiamarlo la progettazione del libro. In cosa consiste allora esattamente questo mestiere, che è un po' anche il tuo? Ecco, le parole in questo caso sono importanti, perché oggi spesso si usa la parola design per definire il progetto e disegno sembra una parola riservata solo al disegno artistico, alla coppia dal vero o a cose di questo genere. In realtà la parola disegno è quella giusta. Bisognerebbe ricominciare a utilizzare questa parola, a mio parere, per definire la capacità di mettere insieme diversi elementi, di creare una configurazione di elementi che portano a quella specie di insieme di cose che è il libro. Così come la parola stile e la parola grafica, all'epoca di Cichold erano quegli anni, quel decennio di cui parlavo, è proprio il decennio all'interno del quale esiste anche l'attività del Bauhaus, che è il primo luogo dove si è cominciato a definire il progetto grafico, la parte progettuale delle attività artigianali in modo un pochino più strutturato, un pochino più teorico. Questo approccio poi ha portato a delle aberrazioni, Cico direbbe sicuramente, il fatto di anteporre lo stile personale a esigenze di tipo più generale, per esempio. Per cui la copertina è una cosa che serve solo a vendere il libro, ma non ha a che fare col libro. Tanto è che lui dice di staccare le sovracoperte, La sovracoperta è la prima cosa da buttare in cestino comprando un libro. Bisogna anche ricordare che all'epoca i libri avevano sempre in prima edizione un'edizione rilegata e quindi una sovracoperta. Adesso con i libri in Brosturo è una cosa un pochino diversa. Però se si vanno a guardare le sovracoperte che Cicold progetta per i suoi libri, si vede proprio che sono di una semplicità e di una povertà totale, anche nei materiali. Usa proprio cartaccia che se qualcuno la butta via, dopo qualche anno di sicuro è da buttare via perché si autodistrugge. Senti una cosa, Stanley Morrison a un certo punto nel suo libro sull'estetica del carattere, a un certo punto dice questa cosa che mi ha colpito sempre tantissimo, dice il carattere deve essere trasparente, non nel senso che è esile, ma che è un puro strumento per il testo. Un po' siamo nello stesso logico. Sì, siamo in una logica molto simile. La definizione di tipografia che a me piace usare è che la tipografia è la più invisibile delle arti visive, perché un libro ben progettato non appare come qualcosa dove qualcosa si sovrappone al puro testo, insomma. È semplicemente fatto in modo che chi lo legge può avere con il testo un rapporto perfetto, fra virgolette. Quindi non si deve vedere la personalità di un autore che si sovrappone, di un autore grafico, diciamo, visivo, che si sovrappone all'autore del testo. E è un po' come in campo musicale interpretare una partitura. La partitura è quella. Quello che il musicista fa è aggiungere il proprio tocco. E infatti il ciclo usa la parola tocco per definire ciò che il tipografo fa. Quindi piccoli aggiustamenti, piccoli... Lo stile del tipografo è minimalista in qualche modo. Sì, lo deve scomparire in qualche maniera. Meglio, questo è un po' anche una civetteria, sinceramente. C'è comunque, ma non deve essere preponderante. Senti, e perché allora questa... A me ha colpito molto anni fa la Newberry Library scoprire che l'intera Wing Collection venne fatta per raccogliere libri antichi come modelli per le scuole di tipografia della città di Chicago. Cioè, perché c'è questo bisogno di tornare ai modelli, a guardare gli antichi, ai modelli dei prototipografi come esempi di eleganza, non nel senso di fare dei libri uguali che non è possibile, ma da cui bisogna imparare. Cosa vuol dire questa idea? Vuol dire... Beh, proprio la storia personale di Ciccol in questo senso è esemplare, perché lui esordisce nel 1925 con una specie di manifesto rivoluzionario, la tipografia elementare, dove dà delle regole in modo ancora più totalizzante, insomma, di come fa in seguito, e che sono regole di completa rottura con il passato, quindi tipografia asimmetrica, abolizione dei caratteri classici, dell'assimmetria della pagina, eccetera, eccetera. Tutte cose che in quel momento avevano a che vedere col pensiero delle avanguardie, soprattutto. Però dieci anni dopo pubblica un altro libro e comincia a, insomma, ripensare a quello che aveva detto. E questo ripensamento è legato allo studio del libro antico proprio, al fatto di scoprire che già nei libri antichi sono applicate quelle idee di funzionalità al testo e di chiarezza della pagina che lui considerava come il fare, insomma, da seguire. Quindi non una tipografia che vuole fare qualcosa di bello, di piacevole, di decorativo, di arzigugolato, ma un modo di costruire sulla pagina i testi perfetto per il lettore. Se si vanno a guardare libri del Cinquecento, ad esempio, come i libri La Bibbia Poliglotta, Cinque lingue su ogni pagina, il problema di strutturare un testo di questo genere, così come anche tanti libri che hanno un testo principale, note, postille, altre cose del genere, libri composti su più colonne a seconda dei tipi di problemi, insomma, che si verificano di volta in volta. Tutte queste cose sono, appunto, esempi ancora oggi utili come riferimento, così come anche il fatto che questi libri antichi, addirittura precedenti al libro a stampa, nell'epoca dei manoscritti, sono costruiti effettivamente utilizzando, a proposito della proporzione delle colonne di testo, per esempio, sulla pagina, dei sistemi estremamente semplici, ma estremamente efficaci. Ad esempio, il fatto di considerare sempre una relazione, una proporzione, tra i diversi elementi che stanno sulla pagina, a partire dalla pagina stessa, dalla pagina bianca, dal formato della pagina bianca. Per cui, tipicamente, nel libro antico, la pagina ha quella proporzione che è data dalla produzione, foglio per foglio, della carta fatta al mare. La pagina, la doppia pagina di un libro aperto, ha una certa proporzione. la dimensione della stampa su quella pagina è misurata a partire da uno, dalla misura di uno dei lati del foglio stesso, quindi creando una relazione di proporzione e così via, andando... Quindi una proporzione interna, diciamo così, relativa all'oggetto, relativa al singolo oggetto, non astratta, ma... Esatto, esatto. Non è dire margine tot centimetri sopra, tot centimetri sotto, c'è un ragionamento di questo genere. Cosa che in realtà poi accade quando oggi noi andiamo a costruire una pagina usando un computer, che ragiona con una logica differente. Senti, questo libro esce presso Ronzani Editore. Noi abbiamo già fatto una bellissima conversazione, Arianna Leonetti ha incontrato Beppe Cantele, è stato un bel dialogo, e senz'altro Beppe, insomma dire, ci terrebbe che i suoi libri fossero creati, diciamo così, secondo gusto, gusto per la pagina, per l'elemento tipografico estremamente alto e raffinato. Io però ti volevo domandare questo, ma un libro come questo di Cicholt, perché l'altro giorno l'ho fatto vedere anche i miei studenti del Master di Editoria, della Cattolica, e gli ho detto, guarda, secondo me è un bel libro da leggere, ma secondo te ha una validità anche oggi in cui l'industria editoriale si muove su tanti livelli, in tanti modi diversi, senz'altro con una spinta, evidentemente una pressione non estetica, ecco, spesso un po' consumistica. Ha un senso leggere questo libro così o è semplicemente per far poesia, scusa l'espressione, ma per capirsi? Il dubbio può venire, però in realtà a mio parere ha un enorme senso, perché fare un libro bello e fare un libro brutto non è molto diverso dal punto di vista. Non costa tanto diverso. Ci vuole un po' più di cura, un po' più di amore per quel che si fa, cosa che effettivamente, Beppe Cante e Ronzane stanno facendo con le loro pubblicazioni, sia per gli argomenti, ci sono le collane proprio di libri dedicati alla tipografia, sia anche quelle di narrativo o di poesia. Scegliere il formato con un criterio, scegliere la carta, avere una buona impaginazione, una cura del testo, anche nei dettagli della messa in pagina e della cura ortografica, anche semplicemente. usare le legature, per esempio, usare i rientri di paragrafo, cose di questo genere. Ecco, basta questo, basta questo po' di attenzione. Chiaramente magari ci si mette un po' più di tempo, piuttosto che far elaborare un testo dal computer e poi mandarlo in stampa senza neanche rileggerlo, però poi alla fine vengono fuori degli strafalcioni, insomma, molto facilmente. Anche, anche. Ascolta, adesso facciamo una domanda invece personale, perché tu, in realtà, nella tua vita ti occupi anche, forse soprattutto, non saprei dire, hai una tua private press, come si usa a dire, e di libri d'artista. Che rapporto c'è, secondo te? Il libro d'artista è un puro divertissement o anche lui dà un contributo di riflessione al disegno del libro? Il libro d'artista occupa una necchia talmente piccola che difficilmente può diventare un esempio, però dà la possibilità di sperimentare soluzioni che nell'ambito dell'editoria commerciale non si potrebbero fare o si fanno in modo estremamente raro. Quindi dà una grande libertà. Per cui è molto bello farli. Tant'è vero che io sono 40 anni che finora non mi sono stufato. Anche se non ne ricavo un ritorno economico. Tuttavia c'è, insomma, questa bella relazione tra l'elemento intellettuale, l'elemento materiale del lavoro che secondo me è qualche cosa che oggi più che mai è bene coltivare. Ecco, c'è per chi fosse interessato su Insula Europea dell'amico Carlo Pulsoni. Lucio è stato intervistato da Maria Gioia Tavoni proprio su queste tematiche del libro d'artista. Quindi si può approfondire anche andando a cercare sul web questa bella intervista. Bene, cosa diciamo allora ai nostri ascoltatori perché vadano a leggere il libro di Cichol? Beh, direi che chiunque ami i libri, ami leggere e così come chiunque ama scrivere, grazie a questo libro da tenersi sul comodino e leggersi un po' per volta a piccole dosi, diciamo, si può trovare una guida, un vademecco o anche, forse meglio dire, un galateo di regole che poi uno può decidere se seguire o meno. Però di sicuro sono state molto ben pensate e ragionate da un uomo di levature assai alta. Sì, è impressionante perché alcuni suggerimenti sono anche, appunto, tu già facevi il cenno, quello del rientro e inizio paragrafo, che è una cosa che veramente non costa nulla perché poi lui dà una certa proporzione di questo rientro, ne spiega la storia, però per l'ordine della pagina è una cosa veramente che non costa nulla e che anche noi quando riduciamo un testo a computer possiamo mettere in atto senza nessuno sforzo particolare, ma con un guadagno di chiarezza poi per la lettura veramente grande. Quindi, vuol dire, c'è anche un rispetto del lettore, insomma, come dire, perché tu quando produci un libro vuoi essere il rispetto del lettore e quindi questo è sicuramente interessante, cioè il passaggio da un testo a un libro che tiene conto del fatto che diventa un oggetto leggibile ha dentro anche tutti questi elementi di disegno del libro. Bisogna proprio concentrarsi anche sulle cose minime e mettersi dalla parte di chi leggerà perché il rientro di paragrafo è previsto anche nei programmi di videoscrittura però spesso è proporzionato in modo addirittura esagerato come misura ed si può anche spiegare questa cosa non qui e non ora ma si può spiegare così come altri aspetti perché per esempio una delle cose che Cicold avrebbe che fanno imbestialire diciamo già ne parla lui e anche io trovo che questa sia una cosa veramente non digeribile in modo come vengono impostati i richiami alle note a piedi pagina i programmi di video impaginazione di solito impostano i numeri delle note a piedi di pagina con un numerino esponente così come lo si trova sulla pagina e in questo modo questi numeri sono piccolissimi campati per aria e non ha senso che siano esponenti perché non sono più degli indici per portare un altro numero dovrebbero essere numeri della dimensione normale delle note allineati nella linea di base insomma del testo stesso così sarebbero più facili da riconoscere più leggibili e tutto il resto questa semplice cosa non viene fatta proprio perché l'impostazione di fabbrica dei programmi non la prende è diversa queste impostazioni sono state fatte da persone che questi aspetti tipografici non li hanno considerati per cui lo si vede in tanti libri anche libri serie importanti fatti da accademici e tutto il resto però già questo indice dal mio punto di vista è un qualche cosa che va a storcere in allora perché io non conosceva Lucio Passerini ha imparato a conoscere un pochino almeno questa breve conversazione e ti hai capito che è una persona con la quale si potrebbe parlare per giorni interi di come sono fatti i libri dei caratteri da usare nei libri e quindi ci mostra come ci sia veramente una finestra su un mondo di competenze di conoscenze che può essere e vale la pena davvero scoprire la lettura del libro di C. Holt del quale abbiamo accenato stasera è una piccola introduzione a un mondo ripeto che è di grande interesse per una riflessione proprio su cosa è il libro da che parte va il libro e da che parte va anche la lettura noi siamo molto grati a Lucio e ringraziamo e salutiamo e salutiamo saluto il nostro pubblico e speriamo di vederci ancora presto con altri dialoghi di Orbisaglia grazie buonasera buonasera grazie